La Federazione Italiana Danza Sportiva organizza per sabato 23 e domenica 24 gennaio 2010 la Coppa del Mondo Synchro Dance Turing Cup al Palaruffini di Torino. I migliori atleti a livello internazionale si contenderanno il prestigioso trofeo in una due giorni imperdibile. Vi aspettiamo sabato 23 e domenica 24 al Palaruffini.